Il mondo marino in tutta la sua bellezza, spettacolari immersioni alla scoperta dei misteri del blu, la celebrazione della vita che anima il nostro mare e la sua incredibile capacità di rigenerazione e resilienza. Una proposta di Rai Documentari. Mediterraneo. La vita sotto assedio. Venerdì 21 e 20. Rai 2.